E' stata una nottata di terrore e paura, quella vissuta a testaccio, frazione del comune di Barano, diventata nuovamente scenario di un episodio di grave violenza perpetrata dallo stesso protagonista di un'aggressione verificatasi proprio a testaccio nelle scorse settimane. Se nel precedente episodio ci si era fermati a qualche graffio e a una macchina dei carabinieri danneggiata, questa volta è mancato davvero poco ad un possibile omicidio. E' difficile anche solo immaginare ciò che invece è realmente accaduto nella notte di terrore vissuta a testaccio. Una giovane donna è stata sequestrata e malmenata da Manuel Monaco, persona già nota alle forze dell'ordine, protagonista di un'aggressione con cacciavite sempre a testaccio. Nonostante l'aggravante dell'oltraggio a pubblico ufficiale, Monaco era ritornato subito in libertà. Nei giorni successivi si era discusso sui social dei problemi psichici del giovane che necessitava di essere aiutato, mentre altri auspicavano pene più severe per evitare di ritrovarsi davanti ad altri episodi simili. Detto fatto, ieri sera un nuovo episodio di violenza. Era in strada, Manuel Monaco anche stavolta, sempre a testaccio, e stava aggredendo una ragazza. Un gruppo di giovani è intervenuto per difenderla, ma Monaco li ha aggrediti con un attrezzo da macello. I giovani si sono difesi, ma non hanno potuto evitare la fuga di Monaco, che si è poi chiuso in casa con la ragazza, che non è riuscita in alcun modo a scappare. La polizia è stata allertata dai giovani protagonisti della vicenda e giunti sul posto. Gli uomini del vicequestore Ciro Re hanno compreso che Monaco stava di fatto sequestrando la ragazza. Un'operazione complicata, non scontata, perché gli agenti non potevano conoscere in quel momento la reale situazione. Arrivati a casa di Monaco, la polizia ha circondato l'abitazione, dalla quale non sembravano arrivare movimenti sospetti. Monaco non apriva. Il troppo silenzio ha comunque insospettito gli agenti, che sono comunque riusciti a sentire le minacce che Monaco stava rivolgendo alla ragazza costretta a restare in silenzio. E' bastato un colpo di tosse per confermare che la ragazza era effettivamente in casa e che bisognava intervenire. Gli agenti hanno sfondato la porta e trovato la ragazza terrorizzata, legata e con evidenti ferite riportate in seguito all'aggressione fisica subita da Manuel Monaco. Una violenza feroce che ha stremato la ragazza. Secondo alcune indiscrezioni, il volto era diventato a tratti irriconoscibile per il gonfiore e le scoriazioni. Per la ragazza è stato necessario ricorrere con urgenza alle cure del Rizzoli, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Per Manuel Monaco sono scattate nuovamente le manette con le accuse di lesioni gravi, tentato omicidio, resistenza pubblico ufficiale, minacce di morte, possesso di oggetti atti ad offendere, violazioni degli obblighi e tentato omicidio. Ancora una volta l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato una probabile tragedia. La giustizia sarà ora in grado di intervenire altrettanto tempestivamente e adeguatamente affinché non si metta a rischio la vita di altre persone.